Erika Maestrelli, Fabrizio Visintainer, gestore di Maga Clesera. Una parola con cui declinereste l'autonomia nel vostro settore, quello degli alpeggi d'alta quota? La parola che viene in mente è anche tutela. La nostra autonomia deve valorizzare e tutelare questo paesaggio, che è un paesaggio storico, ma anche ricco di ecologia, che ci permette anche di fare un allevamento sostenibile e un turismo anche più lento e gastronomico. Oggi le maghe stanno vivendo una fase storica un po' difficile. Che ruolo rivestono e come vedete il futuro delle maghe? Sicuramente il patrimonio dei nostri pascoli è molto importante. Speriamo che possa andare avanti in futuro, che possa superare questi momenti di difficoltà. Grazie anche magari all'autonomia della nostra provincia, che potrebbe garantire a noi agricoltori, a noi pastori, di andare avanti con questo lavoro secolare. Proprio per questo è un lavoro che ha a che fare con la sostenibilità e che speriamo possa andare avanti per chissà ancora quanti centinaia di anni. Grazie a te, grazie a te. Grazie.